È importante perché nella stalla è tutto, perché dalla stalla c'è l'alimentazione, c'è la lettiera, c'è il benessere animale, noi abbiamo delle stalle areate con tutta la ventilazione e gli animali stanno bene. Cerchiamo sempre di migliorare la qualità, la carne e il benessere animale, prima di tutto. Alla fine i risultati si trovano nella carne. La carne l'ho assaggiata, per me è buona, l'ho trovata tenera e gustosa. Io sono contento, sono contentissimo perché si vede il frutto del mio lavoro, della mia passione e del lavoro che ho fatto. Grazie. 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 Grazie.